ok c'è la Ila avete visto? l'intruso ciao ragazzi ci siamo ok non siamo in diretta ma è come se lo fossimo dai alla fine vi divertite uguale tanto abbiamo visto anche quei video registrati spacchiamo siamo dei grandi quindi andiamo bene lo stesso ok? assolutamente functional tone training ok quindi solito il nostro allenamento funzionale con lavoro analitico di tonificazione lavoreremo sulla forza resistente lavoreremo comunque anche sul appunto lavoro settoriale analitico di tonificazione importante assolutamente la vostra bottiglietta dell'acqua il vostro asciugamano perché sappiamo bene che può servire e importante i pesettini o bottigliette di acqua che noi abbiamo qua a fianco a noi mi raccomando prima della lezione perché comunque ci serviranno per il lavoro sulle braccia il vantaggio è che potete mettere in pausa il video e eventualmente andare a prendere velocemente i vostri pesetti che avete lasciato nell'altra stanza ok? partiamo ragazzi buona lezione, buon divertimento mi raccomando occhio al planning per la prossima settimana che faremo qualche modifica ok? dagli è tutta buon lavoro wow oh here we go ok, speriamo di non ammazzarci che non è esattamente altissima spalle vai sciogli bene yes partiamo subito con la nostra mobilità delle spalle mi raccomando belli carichi poi butteremo subito sul cardio ancora siamo carichi siamo buono e vai braccia alternate go bello ampio il movimento e vai buono yes ancora 8 7 6 5 4 3 2 molto bene ci mettiamo in azione sui piedi saltellino buono prima un piede poi l'altro belli assini vediamo immediatamente sul cardio vai buono 8 7 6 5 4 3 2 buono puntano il piede destro in mano trecini sul quadricipite si va bene yes cambia gamba tira l'altra subito è tanto registrata possiamo soffare farla ripartire buono ok ragazzi sul posto dietro calzata leggera vai palla leggera sul posto non serve ancora che vai veloce stiamo soltanto facendo l'introduzione leggero rimbalza poco non serve vai tranquillo buono yes molto bene ancora così metti in azione anche le braccia mi raccomando 4 3 2 buono saltiamo di nuovo yes alla lezione lo so io per lei è una sorpresa quindi vediamo cosa succede a giunto punto ci infraceremo a caso ma non è un problema buono ancora 3 8 7 6 5 4 3 2 buono calciata leggera facile 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 molto leggera ancora da quella posizione piccolo movimento dell'alzamento vai poco avanti torna indietro vai poco avanti buono torna indietro ancora poco avanti torna indietro rimani lì aumenta il ritmo svelto dai 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 buono 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 8 7 6 5 4 3 2 di nuovo lento sul posto piano e tranquillo 8 7 6 5 4 3 2 di nuovo veloce vai svelto 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 aumenta il ritmo e vai spingi 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 8 7 6 5 4 3 2 buono spettaccia leggero ok com'è diciamo ok però è facile però è semplice è facile 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 buono iniziamo a introdurre le lezioni fatti a base insieme al jumping jack ok allarga le gambe braccia avanti scendi squat lento sali lento sali ancora 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 per 8 buono e 7 buono ancora 6 buono e cinque dai ancora buono e vai sali stringi il gluteo e gli ultimi quattro buono sono gli ultimi dai così gli ultimissimi due buono fammi l'ultima e ok giù di tutto con grande paura di toccare la manzarda assolutamente vai 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 leggero il ritmo buono ritmo e vai ritmo e vai non mollare otto sette sei cinque quattro tre due buono step touch yes uh com'era ce l'avevamo ok ragazzi un giro ancora lo squat proviamo a farlo diventare un po' più veloce partiremo sempre tranquilli ok poi proveremo a aumentare la velocità un giro di jumping jack e poi parte il lavoro la nostra fase di intro in realtà quella che ci porta da riscaldamento all'allenamento pronti? 4 3 2 apri le gambe squat lento sali lento sali ancora lento sali ancora lento sali ancora lento sali ancora lento sali l'ultimo buono e ok ora è veloce go scendo e su yes hotel California che pezzo vai buono uh yeah playlist di livello si sente poco perché ovviamente abbiamo avuto anche qualche problema con la cassa però si sente vai ottimo 8 7 6 5 4 3 2 go jumping jack ultimo c'è quell'attimo dove guardiamo verso l'alto per controllare l'altezza dell'amanzata spiegando perché in due è tanta roba lo teniamo un po' di più dai 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 buono spettacolo dai e noi l'abbiamo provato dai ancora buono stienilo 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 non mollare uh buono qua uh dai 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 step touch uh ok ragazzi buono comincia la parte intro iniziamo a lavorare sulla costruzione del barfit ok sapete già di cosa si tratta lo consideriamo ormai la fase avanzata del riscaldamento pronti? siamo con voi giusto? 8 7 6 5 4 3 buono sei in squat scendi lento torna su buono ancora scendi lento su avanti così praticamente è un ode allo squat vai ancora tanto ragazzi registriamo da palestrina nuova questa è la nostra nuova palestrina wow abbiamo creato qualcun angolo di casa in funzione palestrina buono non vi dico cosa abbiamo davanti a noi meglio non dirlo avanti ancora buono molto profezionale tanta roba vai ottimo rimani giù mani a terra cammina in plank lento tienilo oh oh io spadisco è uguale 8 7 6 5 4 3 torna a casa lentamente lento lento e sali scrolla le spalle ancora scendi giù le mani andiamo avanti lento tienilo buono canti stanchi ma tienilo poi muorirà 8 7 6 5 4 3 2 a casa buono e sali ok è un po' più veloce questo scendo avanti buono stai torna a casa buono sali sciogli ancora giù mani a terra avanti buono torna a casa buono sali sciogli uno ancora scendo avanti tienilo poco torna a casa buono sali su e scotta sali wow ci siamo ci siamo ci siamo vieni duro e non mollare attento che ora questo squat me lo fai diventare veloce go far away and play one day 8 8 7 6 5 4 3 2 rimanili dove vai giù le mani avanti tienilo stai lì e non mollare 8 7 6 5 4 3 2 a casa buono sali scrolla le spalle attento adesso scendi squat giù mani a terra avanti stai in plank la mano destra si stacca tocca la spalla sinistra a terra cambia e vai così touch 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 ancora touch 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 buono touch ancora per 8 7 6 5 4 3 2 buono torna a casa yes sali su oh squatta lento sali scura scendi lento sali ancora lento buono ancora lento avanti così tra l'altro abbiamo anche la finestra aperta ma si muore perché si muore qua se è parecchio caldo ma sentiranno anche i vicini chissà cosa penseranno avanti ancora vai buono l'ultimo così vai veloce lento via let's go io faccio l'urlare no devi vai buono importante l'urlare fai uscire l'aria vai ancora non mollare non mollare fai così posso anche offendersi buono arrivati giù mani a terra avanti tienilo lì attenzione ragazzi mano destra spada sinistra touch torna touch torna touch torna touch torna touch torna touch buono touch ancora touch vai touch yes vai buono ancora e vai avanti così come arriva sta benissimo vai così tienilo non mollare tienilo non mollare tienilo non mollare buono rimani in plank tienilo tienilo otto sette sei cinque quattro tre due torna a casa ottimo e sali scrolla buono step touch ragazzi un blocco cardio di fine riscaldamento e poi si parte col circolto non c'è pausa per ora ok vediamo dopo cerchiamo di far lavorare il frenometro ok mi raccomando blocco cardio calciato dietro veloce alternato ai jumping jack siamo con voi quattro tre due calciata go bella bella veloce vai 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 veloce vai tieni bene la tua gita spingi con i piedi tieni il ritmo alto vai attenzione al cambio otto sette sei cinque quattro tre due jumping jack go via panico da manstarva vai buono vai 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 tienilo 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 quattro tre due calciata vai 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 veloce 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 aumenta per mollare dai forza 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 spingi non mollare spingi non mollare otto sette sei cinque quattro tre due buono jumping jack no nel senso che cioè spingi non mollare e vai uh ti resta aperta non la vedo bene vai buono però se non le io dico l'olmina sentiamo cosa dico eccola buono non mollare vai un mezzo a mila ragazzi fatti ancora non mollare sono gli ultimi dai ragazzi tenere 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 otto sette sei cinque quattro tre due buono uh pesetti ragazzi oh che rianti ok come ragazzi ci siamo bene riscaldamento fatto direi che molto bene parte il primo circuito pesetti con voi ok non vi serviranno sempre pronti anche a lasciarli va bene dai via siamo qui eh perfetto uh attenzione ragazzi perché uniamo lavoro funzionale con esercizi proprio legati al mondo del functional training alla tonificazione analitica ok pronti mi raccomando guarda i pesi alle spalle gambe larghe primo esercizio go squat pronti tre due uno let's go via lento o meglio velocità media stringi il minuto quando sali e metti i talloni a terra buono yes buono vai ancora yes I wanna be forever young vai ancora buono yes non male non male vai buono ancora vai saranno due giri di questo circuito il primo sarà lungo gli esercizi funzionali si faranno a velocità intermedia nel secondo giro proveremo ad aumentare l'intensità vai ancora un volare buono otto sette sei cinque quattro tre due buono pesi a terra ok scendi squat mani a terra cammina in plank appoggia le ginocchia a terra scendi sui gomiti da lì da lì gamba destra slancio gluteo bello alto let's go su yes buono questo non finirà mai vai ne facciamo duemila dai inchioda bene in alto vai buono vai 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 spingi su in chioda vai come è lì da non ti rispondo va bene vai va tutto benissimo vai 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 ancora alto alto buono na 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 stop cambia gamba sulla sinistra go teniamo teniamo sempre bene il piede a martello pensiamo di voler attaccare un chiodo al soffitto spingi su e vai buono yes yes vai che tanta roba buono inchioda su e non mollare che altro che fa fresco qua che si c'è un bel clima assolutamente sta bene bellissimo sta benissimo no sono belle le travi di legno ci marcherebbe ma meravigliose bellissime vai ancora buono stia in alto non mollare non mollare non mollare non mollare ci proviamo non mollare 4 3 2 buono metti le mani a terra stendi le gambe dietro torna a casa buono sali prendi i pesi ok ragazzi andiamo con il thruster porta il petto scendo in squat quando salgo spingi su braccia in alto scendo su e via l'aria esce quando salgo vai così buono buono va bene che ti leggeri posso far cambio no dopo ti chiederò dopo ti chiederò un cambio vai ancora non mollare buono vai vai ancora buono ce n'è ancora un bel po' vai 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 prendetela con lui non mollare oh non mollare non mollare non mollare l'ultimo è ok ripesi wow scendo in squat mani a terra cammina avanti appoggia le ginocchia appoggia i gomiti sulla gamba destra in flex da lì è piccolo lo polluiamo il chihuahua così mordicchia il gluteo è lì proprio che ti fa sentire coberto arriva tranquilli non mi ha fatto più il chihuahua spettacolare spacco vai ancora vai ancora vai 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 spingi non mollare tieni altezza svuota sempre bene aria non far scendere troppo il ginocchio vai ancora tieni che va bene 8 7 6 5 4 3 2 scarica su a sinistra subito sali let's go vai sono piccoli come va? no benino vai ancora vai ancora buono un piccolo laggi in settembre vuota sempre bene aria vai chioda bene il piede pensa sempre al tuo chiodo da attaccare al soffitto non mollare vai vai buono e vai 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 spingi non mollare buono vai 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 appoggia bene le mani su stendi le gambe dietro vai buono cammina vai a casa ok prendi i pesi attenti ragazzi adesso sull'ultimo di questi lavori di squat ce la dobbiamo sentire cosa vuol dire? ve lo faccio vedere faremo un goblet squat jump da lì piego le gambe e salto su e salto su un piccolo balzo ok? se non ve la sentite fate il goblet squat come avete fatto prima o eventualmente il thruster ok? porta qui pronti? con me scendi salta salta go vai buono vai ancora ancora vai così questi sono tremendi questi sono tremendi questi sono tremendi buono stop metti giù ottimo andiamo con il push up scendi squat mani a terra cammina avanti buono appoggia le ginocchia da lì ragazzi push up petto bene a terra siamo pronti? let's go vai buono dai 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 non molliamo se siete audaci lo potete fare anche con le gambe tese buono io non sono audaci vai che va bene buono 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 stop stendi le gambe torna a casa dietro ok sali step touch uh com'è? diciamo ok ok ragazzi buono molto caldo si parte attenzione adesso secondo giro del circuito uniremo un po' di cose va bene? l'intensità a questo punto deve salire dobbiamo andare un po' di più va bene? resti in intensità deve essere molto più alta sugli esercizi ok? gli esercizi funzionali saranno più corti il lavoro analitico sarà più lungo ok? l'importante è che andiamo alla fine ci sarà una trasformazione cardio pronti? prendi pesi mi raccomando di intensità mi raccomando di intensità vai che fatta porta il pezzo pronti? goblet squat e 4 3 2 let's go veloce uh uh vai dai 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 buono vai così vai così vai così brava di là brava di là vai 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 aumenta mamma sono gli ultimi sono gli ultimi sono gli ultimi e stop metti giù uh ottimo shimmy squat mani giù cammina buono posa giù vai sui gomiti gamba destra ampia alta let's go intanto devo controllare il polar per il battito cardiaco siamo assolutamente in lezione siamo assolutamente in lezione vai ancora 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 buono vai 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 non mollare tieni altezza tienila ancora vai vai non mollare forza forza lascia lassù da lì sono piccoli adesso arriva il carnetto eh aia è arrivato è arrivato sei alto mamma mia sti glutei vai 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 su 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 le varie otto sette sei cinque quattro tre due giù sch Grab ampia ampia sinistra let's go Arizona mi raccomando svuota sempre bene aria quando porti la gamba verso l'alto farla uscire non mollare vai tieni sempre bene il ginocchio in flex forza 90 gradi, non mollare, dai che va bene, dai che va bene, tieni a testa, porta, porta, ancora, 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 non mollare, buono, rimani su, sono piccoli, go, non mollare, non mollare, non mollare, sta morendo, no perché veramente, sono tre mesi che va avanti sta storia, vai, non mollare, la vogliamo fare, andare avanti ancora per molto, vai, 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 avanti, forza, porta su, porta su, 4, 3, 2, appoggia, metti le mani, stendi le gambe, da lì, cammina indietro, oh, sali, prendi i pesi, wow, ragazzi, si va, thruster, siamo pronti, let's go, squat, su, vai, vai veloci, vai così, vai così, vai così, vai, 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 buono, 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 vai che va bene, vai che va bene, l'ultimo, stop, metti su, ragazzi, ci sono i glutei, scendi, cammina, buono, 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 sali a destra, let's go alto, su, vai, vai che va bene, ti avevo detto, ti avevo detto che ce l'hanno stati infiniti, io avevo voglia molto per sognarci, wow, vai che va bene, vai che va bene, buono, tieni a testa, aspettiamo a tempo che così è già più carino, vai, buono, lascia su, piccoli, vai, 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 mamma mia, ne facciamo, duemila, vai, quattro, tre, due, stop, parte sinistra, su, let's go, vai, 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 buono, vai, 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 continuo a portarsi la gamba, non mollare, ma perché vado troppo veloce, sono in formissimo, ho una condizione di forma paurosa, vai, io sto figando, manco a vent'anni, rimani su, sono piccoli, vai, io l'ho già cominciato, eh, mi prendi un secondo prima, una frazione in secondo prima, vai, 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 non mollare, non mollare, mamma mia, vieni a altezza con quella gamba e non mollare niente, dai, 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 stop, stendi le gambe, stendi le braccia, cammina indietro, buono, prendi i pesi, ragazzi, siamo in fondo a circuito, non molliamo, porta su, dobbletto squat, jump, pronti? Dai, flex and go, stop, vai, poi ci sono i push up, vai, vai, stop, metti giù, buono, scendi squat, andiamo a pushare, giù, avanti, molto bene, piega le gambe, push up, let's go, vai che va bene, com'è l'ira? Benissimo, non risponde, ero concentrata, insulto non ci siamo, non siamo ancora in insulto, vai, non siamo ancora in insulto, se vuoi mi non mi elenco, mi stavo trattenendo, stendi le gambe, vai a casa, buono, sali, c'è il cardio ragazzi, pronti? Back, calciata, via con me, go, prima rimbalzato, leggero, una prova sola ragazzi, e poi c'è un recupero lungo, anche perché abbiamo totalizzato, un po' di tempo, pronti? E, 4, 3, 2, veloci, dai, 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 lento di nuovo, lento, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, veloce, go! dai, 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 tieni in pesità alta, lento di nuovo, un cambio solo, forza ragazzi, un cambio solo, cardio bestia, e poi c'è il recupero, lungo, la famosa pausa lunga, 4, 3, 2, vai veloce, vai, 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 dai, 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 spinge, vai, tieni l'intensità alta, non mollare, non mollare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, uh, pausa lunga ragazzi, grandi, ottimo, mamma mia, molto bene, dovresti ricavere? si grazie, mi guardo quella casciuvente, ok, uh, oh, com'è ragazzi? ci siamo, dai, buono, allora per darvi un dato, abbiamo fatto 35 minuti, non stop, ok, quindi siamo andati in continuità per 35 minuti, non lo avevamo, non lo avevamo mai fatto ragazzi, avevamo fatto veramente altre cose, non siamo arrivati mai a toccare 35 minuti di lavoro in continuità, molto, molto bene, veramente, ok, quindi veramente bravi, 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 adesso abbiamo il lavoro analitico sui addominali, ok, quindi andiamo a fare un bel lavoro sulla parte centrale del nostro corpo, va bene, bello aggressivo, bello importante, ok, mi raccomando, dagli è tutta, e partiamo, vi servono le vostre bottigliette, già partiamo, c'è il recupero, prendiamocelo un attimino ancora, Ila come va? Bene, diciamo bene, dai, abbastanza bene, la ciugattina fatta bene, veloce, wow, calor calor, bene bene, comunque anche il polar dice che stiamo andando bene, quindi ci siamo, ok, adesso c'è il blocco analitico sui nostri addominali, è uscito il sole, il legno si scalda, qua c'è una temperatura meraviglia, la paura, la paura, la paura, ok ragazzi, allora, si parte, come funziona? Bottigliette in mano, abbiamo esercizi, beh, come abbiamo fatto fino adesso, di volta in volta vi guiderò, nel nostro circuito, ok, mi raccomando, voi seguite i comandi, andate tranquillamente, ognuno sempre al suo ritmo, vi do sempre anche la soluzione più facile, se non riuscite, ok, pesetti vicino a voi che vi serviranno dopo, intanto partiamo un attimino, a corpo libero, ok, noi ci metteremo in modo tale che ci vediate entrambi, quindi saremo leggermente di profilo, per cui io mi metterò così, io mi metterò così, non vieni qua perché loro non ti vedono, quindi metti più leggermente più avanti, ok, perfetto, buono, ragazzi si parte, ok, primo lavoro, siamo subito con i crunch, gambe sono già raccolte e si parte, carichi e via, si parte con il lavoro analitico, porta, pronti, ci sarà anche un richiamino sull'utero in un certo punto, tenetevi più in diagonale, non si vedono, stiamo così, vai, si, pronti, ok, sulle gambe, tavolino, pronti, let's go, crunch, vai che va bene, buono, 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 e facciamo un bel po', ricordati di svuotare sempre bene l'aria quando sali, ok, chiuditi bene, cerca di spingere l'ombelico verso la colonna vertebrale, e vai alla grande, spingi e non mollare, vai ancora, che va benissimo, buono, buono, ottimo, e stop, pausa, buono, esercizio numero due, sit up, con gambe tese, quando sali, una gamba si piega verso di te, e poi riallunghi, ok, si va ragazzi, let's go, partiamo tutti a destra, via, e sinistra, yes, vai, vai, buono, questo io lo odio, lo faccio fare ma lo odio, va bene ragazzi, è tanta roba, uh, 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 wow, avanti ancora, avanti ancora, avanti ancora, stop, buono, terzo esercizio, torno ai crunch, le gambe sono raccolte di nuovo, e parto, let's go, se sei in difficoltà, fallo con i piedi a terra, non è un problema, oh, va bene, sai che va bene, buono, 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 pancia sotto, va col core, stiamo in plank ragazzi, da quella posizione, gambe sono tese dietro, lentamente, ginocchio destro, a gomito sinistro, ok, sarà molto molto lento, pronti, vai, stai, stendi le gambe, vai ragazzi, destro sinistro, let's go, lento, 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 ancora, lento, ancora, lento, 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 incrocia bene, ancora, lento, 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 ancora, vai, 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 e stop, buono, ragazzi, facile, sui gomiti fermi, a tenere il plank, e poi si ritorna pancia sopra, e ci serviranno i nostri pesetti, pronti, let's go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go, non vuoi un pezzo, vai, stop, via, tieni, vai, fermo e non mollare, tieni, vai, grande, è nel punto, dai, 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 tienilo, ci stiamo fino a domani, non mollare, non mollare, non mollare, ti ricordo che ho fatto il ritmo 5-23, non so, non ricordo, ce l'ho anch'io, e non neanche io, mi hai anche impedito di gasarti, tienilo a mollare, vai, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, buono, ok ragazzi, pancia sopra, prendi i pesi, molto bene, ok, andiamo con il sit up ragazzi, da lì, tratta su, gambe tese, sali, e porta le braccia dietro, vai, buono, sai che tanto ragazzi la cosa buona è che gli addominali ne facciamo soltanto un giro, non lo ripeteremo questo circuito, questa è la cosa buona, vai ancora, vai ancora, vai ancora su, buono, 10 secondi solo, puoi mollare, stop, metti giù, ragazzi, richiamino sul gluteo, facile facile, pancia sopra, estensioni del bacino, sali su, let's go, vai, 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 spingi e non mollare, spingi bene il gluteo, vai, 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 buono, 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 tieni sempre nell'altezza e svuota aria, ottimo, 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 non mollare, avanti ancora, spingi e su ancora, spingi sempre bene il gluteo, vai, vai, avanti ancora, buono, rimani su, tieni la posizione, spingi il gluteo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, scendo, buono, ragazzi, da questa posizione, addominali obliqui, a toccarsi, le tibie, ok, questo è per la nostra amica Alessia, ciao Ale, vai, let's go, verso destra, vai così, inclinati bene, toccati la tibia o comunque cerca di arrivare al polfatto, vai, 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 avanti ancora, buono, dai così, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, stop, uh, chiudiamo come abbiamo cominciato, gambe raccolte a tavolino, vai con i crunch, vai giù, raccogli le gambe, e let's go, vinci, vai, vai che va bene, vai che va bene, vai che va bene, buono, 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 non mollare, non mollare, vai ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop, uh, ragazzi, pesetti in mano, braccia, uh, mamma mia, uh, siamo pronti, ok, leggermente spalzati, in un certo, pronti, ragazzi, alzate laterali, let's go, pam, 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 vai così, e queste sono lunghe, uh, com'è lì lì? tutto bene, vai così, non mollare, stai rallentando, no, eh, sono forti, sono i bracci, guardiamo, vai, sono ancora, vai, ottimo, l'ultimo, è ok, porta giù, bicep, uh, andiamo di braccia, manetta, vai con i bicep, voi potete farlo tranquillamente, anche con i pesi, da 8 kg, in questo circuito, sono a morire, wow, wow, vai che va bene, buono, fai così, mantieni sempre bene, postura bella dritta, spingi le scapole verso la colonna vertebrale, petto bello aperto, addominali contratti, ginocchia leggermente in flex, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, ok, davanti al pube, alzate la Ferrari, go, vai, 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 dai, non molliamo niente, non molliamo niente, continua e vai, buono, vai così, non mollare, vai ancora, buono, da lì, spretti leggermente il busto in avanti, porta le braccia avanti, prematore, vai così, vai così, yes, e stop, dritto, alzate laterali, go, abbiamo i principittini, costante sulle spalle, e poi c'è il precipite, forza, forza, vuota sempre bene l'aria quando sali, non mollare che va bene, non mollare che va bene, dai, 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 non mollare che va bene, buono, dai, 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 e stop, porta le braccia su, dietro, unisci i pesi, flex il gomito, e da lì, flex, flex, go, e qua tiriamo sulle tendine, stai là, stai, stai, vai, ancora, non mollare, wow, non mollare, wow, wow, e stop, porta giù, oh, tutto insieme velocemente, alzate laterali, let's go, vai che va bene, vai così, vai ragazzi, tu è mai fatta, e stop, biceps, go, schiena bella dritta, vai con questi biceps, go, su questo esercizio, prova a aumentare la velocità, vai, 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 prova ad aumentare la velocità, non mollare, vai, let's go, move it on, buono, lascia pure braccia, lecchi busto, piega le ginocchia, braccia avanti, trematore, poi prima tirata sotto panca, ma va bene uguale, sono sempre quei muscoli, vai, yes, yes, vuota aria mentre tiri su, vai ancora, buono, buono, wow, quattro, tre, due, stop, sali, scrolla, sulle braccia alte, biceps, let's go, vai che è fatta, ah, e questo è il nostro analitico, ma non è finita ragazzi, non è finita qui, vai, 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 avanti ancora, buono, vai così, vai, yes, vai, yes, e stop, metti giù, ok, ragazzi, ci siamo, chiudiamo il scantetta, scendi squat, mani a terra, cammina avanti, buono, appoggia le ginocchia a terra, push up, con un touch della spalla, si parte tutti con la destra, pronti, let's go, push, sali, touch, e, push, sali, touch, push, sali, touch, push, sali, touch, ancora, push, sali, touch, ancora, sali, touch, ancora, push, sali, touch, ancora, push, sali, touch, ancora, push, sali, touch, ancora, push, sali, touch, l'ultimo, push, sali, touch, buono, metti le braccia ad altezza spalle, ok, thricep push, let's go, piega, hai una spalla qua vai non dire buono buono ottimo l'ultimo buono stendi le gambe torna a casa molto bene ragazzi unite la brazza unite i piedi vai col cardio jumping jack go vai vai ragazzi è fatta è lungo ma dopo questo è finita c'è lo stretching tenetelo non mollate lo prendo lo prendo dobbiamo andare con gli altri di nuovo hai capito questo non è armato vai 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 non molliamo non molliamo non molliamo ragazzi attenti sorpresa finale calciate dietro calciate dietro 3 2 go dai 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 finito lo mollare 4 3 2 veloce e fia la morte e fia la morte vai dai 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 8 7 6 5 4 3 2 vento di nuovo l'ultimo ragazzi e poi il stretching ci siamo 4 3 2 vai 5 7 6 5 4 3 2 stop mamma mia è andata era quasi un hit no scherzi a parte allora è stato bello importante ok non siamo andati in realtà molto in high intensity ok perché comunque le prove cardio quando le abbiamo inserite erano molte di meno rispetto a quelle che fate di solito infatti anche a livello di cardio sostanzialmente non abbiamo toccato dei picchi altissimi ok rispetto a l'hit che facciamo lunedì tocchiamo lì tocchiamo veramente dei picchi molto alti ok abbiamo è sempre molto in modalità functional però comunque nel mondo functional la parte cardiovascolare esiste ok si può affrontare in altri modi però abbiamo deciso di affrontarla in questo modo ci facciamo un po' di stretching ragazzi vai allora gambe sull'arghezza del bacino 4 minuti di stretching infatti molto bene prendiamoci le punte dei piedi andiamo avanti vai bel lavoro ragazzi veramente gran bel lavoro tanta roba buono sali apri il petto sei dritto allunga bene la schiena verso l'alto braccio allungati in avanti di nuovo scivola avanti vai lungo e stretcia buono torna da quella posizione porti la gamba destra dietro all'ostacolo vai dietro con le mani e stretch se vuoi farla tirare di più vai pure il tuo alto sui gomiti io non voglio io sì no dai voglio anch'io che poi se no non ci credono che quando faccio il tuo sono io buono sali ottimo switch cambia gamba allunga la destra vai con la sinistra buono e vai anche sta palestrina non è male dai è un po' di caldo ma va bene va bene ma tu devi pensare a questo inverno ah giusto questa non era da lì buono sali molto bene unisci i piedi andiamo a prendere le punte dei piedi vai streccia buono buono sali su ottimo facciamo in piedi molto bene prendiamo la punta del piede destro e tiriamo il quadricipite stretch se hai bisogno di un appoggio trovalo vicino a te tutto bene cambia e vai a sinistra stila ottimo vieni giù molto bene perfetto allarga le gambe da quella posizione pieghi leggermente il ginocchio destro la mano destra si appoggia sul ginocchio destro e il braccio sinistro si allunga l'alterale stretch punto allungamento buono sali molto bene cambi lato pieghi la gamba sinistra appoggi la mano allunghi il braccio destro stretch buono torni molto bene apri le braccia da quella posizione ruoti il busto parola sinistra giù stretch stretch ottimo saldo buono da lì rotto sul lato opposto mano destra scende al piede sinistro stretch ottimo saldo molto bene le mani vanno a prendere i piedi giù stretch saldo su molto bene stringo le gambe in quella posizione andiamo a ispirare verso l'alto ispirando su torno ispiro torno ispiro svuoto aria scendo con le mani a terra scarico la schiena ottimo salgo sciolgo le spalle e stop grazie mille ragazzi grande tante roba ragazzi andata eccoci qua wow perfetto andata ottimo lavoro ragazzi allora che dirvi vi salutiamo vi ringraziamo per averci fatto passare un'altra settimana insieme tanta tanta roba veramente grazie dal profondo del cuore a parte mia a parte di l'aria assolutamente state attenti al planning per la prossima settimana perché ci sarà qualche modifica importante ok importante non nei contenuti quanto magari su alcune disposizioni e gli orari però controllate perché noi come lo sapete siamo sempre qui sempre pronti a allenarvi a farvi compagnia e niente qualunque cosa sapete che noi siamo qui a disposizione contattateci scriveteci se avete bisogno noi cerchiamo sempre di fare di tutto per rispondervi e per starvi sempre più vicini ok perfetto saluti ai ragazzi ciao ciao ragazzi alla prossima grazie ciao 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 ciao